te la leggo così proprio un attimo no ma ti mettiamo la musica sotto dai perché facciamola come possiamo farla al meglio Valentina torna a casa tardi la sera si fa riaccompagnare ma poi dorme da sola Valentina ha tanti amici poche donne, tanti maschi infelici l'amicizia con lei a loro non va giù le offrono da bere ma vorrebbero di più vorrebbero che lei non tornasse affatto a volte la vorrebbero semplicemente nuda nel loro letto e io vorrei fare come Favale che vive in un mondo che è monolocale e non gliene frega niente di chi le dice il tuo amore è uno sbaglio, non essere felice quindi corri, corri Vale rialzati e fai ciò che vuoi la vita a volte è dura ma siamo più forti noi vabbè ma vengo lì un attimo no no calma vieni a abbracciarlo vieni a abbracciarlo no è impressionante perché comunque parla di lei parla di lei ma mi hai raccontato ma mi hai raccontato che bello ciao